Mi chiamo Lidia Valeriani, sono nata il 23 gennaio del 1923 a Montecavolo di Quattrocastella in una frazioncina di Montecavolo che era chiamata Scampate e forse in un brutto periodo fascista perché mio padre era già un perseguitato e prima di me avevo altri due fratelli e poi ne sono nati altri sei eravamo una famiglia di nove fratelli anche quando abbiamo incominciato ad andare a scuola, fin dai sei anni già capivamo che noi che eravamo figli di antifascisti c'erano delle differenze da quelli che erano figli di fascisti e che erano già iscritti ai Balilla, le piccole italiane eccetera a scuola c'erano già queste cose io già a sei anni, che le vedevo e le capivo quando ho incominciato a farla prima e chiedevo a mio padre il perché noi eravamo considerati a scuola con delle cose diverse dagli altri e mio padre cercava di spiegarmi un po' nel modo che poteva farmelo capire perché ero una bambina non ci avrebbe mai iscritto le piccole italiane e neanche i Balilla i maschi eccetera poi andando avanti noi bambini capivamo già io capivo già un po' come erano le cose che c'era già la clandestinità per quelli che erano antifascisti e quando avevo dieci anni che oramai le cose si capivano nel 33 quando incominciavano a mettere dentro tanta gente li mettevano in galera anche prima gli antifascisti li picchiavano anche prima ma noi, io ho incominciato a capire quando avevo dieci anni come stavano le cose e dei nostri vicini di casa qualcuno era già stato arrestato del 33